Bentornati a Radio Design, oggi siamo in compagnia di Marco Polloni, benvenuto Marco. Grazie, ciao a tutti. Tu sei un architetto, sei venuto a trovarci insieme alla nostra docente Marta Toni per quel che riguarda l'interior design. Esatto. Oggi sei qui per un workshop, raccontaci intanto chi sei tu, da dove vieni e quanti giri hai fatto perché mi hai anticipato che hai girato un pochino il mondo. Sì, sono laureato a Milano e ho lavorato per 6-7 anni con Ettore Sozzas nel suo studio a Milano, uno dei tanti, esatto, di giovani, grande architetto e designer, fotografo anche artista e niente, dopodiché ho cominciato la mia professione da libro professionista e niente, mi ha portato a fare un po' di progetti prima a Milano, dopodiché sono andato in Bahrain dove ho seguito con un altro architetto uno studio che occupava l'interior design, banche e uffici, dopo sono ritornato a Milano altri due anni, poi sono ripartito, sono andato in Ucraina altri due anni là, quindi ho fatto questi periodi sabbatici ogni due anni e ultimamente sono stato l'anno scorso a Parigi a seguire un hotel 5 stelle e adesso sono rintornato a dicembre e sto facendo degli uffici a Milano. Comunque, insomma, si viaggia, è interessante, conosci persone nuove, esperienze nuove, culture, insomma, ogni cosa ti arricchisce. E intanto, qual è stato il paese che ti ha arricchito di più da un punto di vista creativo magari? Creativo direi di più sì, in Bahrain, perché i nostri clienti erano molto ricchi, quindi c'era ovviamente no budget, quasi, e quindi ovviamente potevi veramente sbizzarrirti, c'è la fantasia, potevi proprio applicarla, diciamo. Bello, bello. Invece l'Ucraina cosa ti ha lasciato? In Ucraina è stata un'esperienza diversa perché il cliente voleva un progetto di interior design classico, che io di solito non ce l'ho mai seguito, di solito faccio un moderno, cioè, contemporaneo. E invece, la stessa cosa sarebbe nell'ideale della gente normale, anche in Arabia, normalmente si pensa a questo, cioè il fatto di avere orpelli, decorazioni. Ah, c'è un po' più pomposo come stile. Cioè, i clienti nostri non lo erano perché lo studio proprio lì in Bahrain era proprio tagliato per l'architettura e interior design moderno, quindi soprattutto loro, i giovani che vanno, Bahrainiti, vanno a studiare molto a Londra, economia, eccetera, quindi sono più abituati a nuovi stili. Certo. E quindi quando tornano, rientrano in Bahrain, vogliono quello. Infatti noi avevamo proprio questa fascia di clienti che non erano quelli proprio... Certo, proprio giovani, diciamo. Certo, più giovani, sì. Invece, appunto, lì in Ucraina il cliente invece era proprio legato al classico, quindi cioè, decorazioni con buaseria, tutta altezza, in legno, colonne, intarsi, proprio un po' pesantino. Però, in senso... Vabbè, anche perché richiamo un po' anche lo stile... Lo stile che hanno loro, sì, lo zar, questi ricordi che hanno loro, eccetera. Poi loro, per esempio, mentre per noi la ricchezza è magari avere una cosa più minimal, diciamola così, magari più stata un'attenzione ai materiali. eccetera. Loro sono ancora legati al fatto della ricchezza, quindi le dorature, le superdecorazioni che ricordano i tempi... Imperiali. Imperiali, esatto. E quindi, appunto, è stato un approccio diverso che però mi è servito per arricchire comunque il mio bagaglio. Cioè, più per dire, più che stile, voglio far vedere che ho i soldi, sarebbe? Sì, 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 quasi sì, quasi sì, perché alla fine, guardandolo dall'esterno, magari la spesa che uno ha per realizzare quella cosa di lui, magari potrebbe spendere molto meno soldi e avere più effetto in un altro modo. Però ovviamente poi quello rimane legato al gusto del cliente, insomma, quindi... È normale, è normale. Invece, nello studio, dove hai iniziato, no? Com'è stata questa esperienza? È da sozza, si dice. Sì. Diciamo che sono stato abbastanza fortunato, perché di solito, quando uno esce dalla facoltà di architettura, i primi studi, magari vai dallo zio, un amico, ti sfruttano, fanno fare qualche coppia, eccetera. Invece io sono stato fortunato perché ho finito di fare il servizio civile, non avevo neanche preparato il curriculum per cominciare a spedire il curriculum in giro. E mi ha chiamato un mio amico che lavorava in uno studio piccolo, ma che aveva come progetto da curare una mostra dell'ATM, l'azienda di trasporti di Miano, alla triennale. Bello. Quindi come primo lavoro per un laureato, appena laureato, uscito così, è stata una bella esperienza, insomma. E da lì, dopodiché, ho fatto quell'anno, anno e mezzo lì, e poi ovviamente noi abbiamo di bassa parola tra gli architetti. Certo, come in tutti i lavori da professionisti. Esatto, raramente in effetti un architetto trova lavoro scrivendo su, non so, l'ordine degli architetti, eccetera. In Italia raramente si trova… Esatto, sì, normalmente, esatto. E quindi, niente, tra amici così, una volta un mio amico mi ha detto, guarda che stanno cercando un architetto di interni, da Sozzas. Io addirittura non sapevo neanche che avessero gli interni, perché pensavo facessero solo design e basta. Perché poi la maggior parte delle cose le facciano all'estero, come architettura, intero design. E niente, quindi ho fatto il colloquio con loro, è andato bene. Dopo, tipo il 31 di agosto, lui mi ha detto, ci sentiamo, chiamami il 31 di agosto, vediamo quando cominciare. E ho chiamato, mi ha detto, cosa fai oggi pomeriggio? Niente, vai, vieni. Il 31 di agosto ho cominciato a lavorare. Ma proprio lui? Sì, sì, lui. Pazzesco, quanti anni c'aveva? Lui ne aveva 85. Gestiva ancora tutta la grande. Sì, sì, ma ha proprio una testa… Lucidissima. Lucidissima, ma fino all'ultimo, alla fine. Pazzesco. E lui che personaggio è? Lui era molto strano, nel senso che, vabbè, è un curioso pazzesco, ma è una cosa che dovrebbe essere in tutti gli architetti, ma soprattutto per gli architetti, lui toccava le cose, sentiva i materiali, se era caldo, freddo, ruvido, queste cose qua, proprio. E poi aveva una ricchezza culturale enorme, perché da giovane era compagno della Fernanda Pivano, e lei gli ha fatto conoscere la Beat Generation, tutti gli scrittori, eccetera. Hanno viaggiato molto in India, negli Stati Uniti, così. E in ogni paese dove andava, soprattutto l'India, hanno avuto una grossa influenza per lui, quindi forme primordiali, di colori primordiali, anche accostamenti, cose così. E per alcune cose, non so, in alcuni suoi stili era molto in contrasto, diciamo, con il design dell'era degli anni 60, eccetera. Però è stato un precursore, insomma. Sì, come sempre, uno vede oltre e poi arriva dieci anni prima degli altri e guida. E lui, praticamente, pur essendo nel 1917, ha attraversato praticamente tutta la storia del design, dell'architettura interior italiana. Pazzesco. Disegnando pezzi famosissimi, che sono esposti al MoMA. Certo. No, un personaggio, un personaggio. Eternamente, per le persone che lo vedevano all'esterno, sembrava una persona molto mite, diciamo, no? Invece era ovviamente grande temperamento. Questo è un classico di tutti i personaggi di questo genere. Sì, 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 così. Ma affascinante, una persona proprio affascinante. No, per dirti, l'altro giorno ho intervistato una fashion designer che era natura da Valentino. Diceva, Valentino era così, cioè era un genio, toccava il progetto, faceva una piccola modifica che la trasformava in qualcosa di straordinario, poi però era super esigente, aveva una tempera. Sì, 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 è così, è così. Si vede che devi essere così. Sì, secondo me sì, perché per certi versi il discorso di genio e sorolattezza funziona, nel senso che se uno è troppo razionale si crea quasi dei limiti, no? Certo. Io, per esempio, mi ricordo una volta stavamo facendo il progetto per una villa di un gallerista in Belgio e lui aveva una collezione di animali, di volatini, e la casa è stata chiamata Bird House perché all'interno di questa casa che era distribuita in diversi spazi c'erano delle voliere, ma enormi, tipo, non so, sei metri di altezza, ed erano collegate con dei corridoi, quindi praticamente un uccello poteva volare da una voliera all'altra passando sopra i corridoi della casa. Pazzesco. E io mi ricordo, avevamo una revisione da fare, tipo il giorno dopo, e stavamo guardando la storia, se ti faccio un esempio veloce, stavamo guardando questa stanza da letto, il letto proprio di questo cliente. No, se mi giro è perché guardo i livelli, non ti preoccupare nel tempo, possiamo parlare anche un'ora. Ah, ok, va bene. E niente, quindi ho tirato fuori il disegno, abbiamo cominciato a guardare le dimensioni, eccetera, eccetera, e io ho cominciato a dire, no, questo qui potremmo cambiare, giriamo qua, questo di qua, questo di là, poi però bisogna vedere un po', vabbè prendi il disegno della stanza, e quindi vado a prendere il disegno della stanza, e comincio a guardare la stanza, e dice, sì, però questo potremmo spostare un po', prendo il disegno della pianta della casa. E ho preso, praticamente lui, ogni volta, cioè, cominciava a cambiare una cosa, però questo girandola influisce su quest'altro, quindi è andato a prendermi la pianta della casa, e io che sapevo che il giorno dopo avevo questa consegna, avevo il contavore che dicevo qui devo stare tutta la notte, perché ogni cosa che cambiava per me, ero, ah, è bella, però intanto pensavo, cacchio, devo cambiare, come facciamo di solito, e lì usavamo ancora il tecnigrafo, cioè a quell'epoca non avevamo ancora passato al computer, avevamo ancora passato al computer, sì, questa cosa lì è stata una roba anche, perché lo studio era diviso in tre parti, c'era la grafica, l'intestral design e l'architettura interni, e i primi, ovviamente, a usare il computer, sono stati i grafici, quindi avevano tutti i Mac, no? Man mano che arrivavano i nuovi Mac, i vecchi passavano a quelli di intestral design, e poi sono arrivati da noi, no? Il terzo livello di Mac. Il terzo livello, quando siamo arrivati, noi c'era un computer, che, no, due o tre computer, scusami, ma noi eravamo tipo otto architetti, no? Quindi c'era, quando iniziavi un progetto, dicevi, cosa facciamo? Cominciamo col computer, però il computer non puoi usarlo sempre, perché ti alzi, vai in bagno, arriva l'altro, ti chiude, ti salva, chiude il file e apre il suo. O se no, disegniamo sui lucidi, no? Ancora che lucidi. E quindi è stato, non ho fatto... Che giustamente costava uno stonfo di soldi il Mac. Eh sì, ma in più poi dopo... 5 mila... 5 mila di lire. C'erano ancora quelli colorati, sai, che ad un certo punto sono arrivati quelli. Eh, il Mac intosce proprio... Sì, sì. E niente, ad un certo punto, quando sono arrivati a noi gli ultimi, cioè i primi computer che erano arrivati nello studio, avevamo soltanto programmi di grafica. Quindi noi non avevamo, non so, tipo AutoCAD, sono tutti questi programmi che sono facilmente misuri una cosa e con due click tiene fuori la misura, esatta. Cioè lì era come disegnare. Cioè dovevi prendere misure vicino a... Sì, facevi proprio le linee, come se tu stessi disegnando ma lo facevi al computer, perché era una cosa grafica, non d'architettura. Quindi era una roba... Mamma, ci mettevi una vita a fare... Eh sì, abbastanza. Mamma, però insomma alla fine... Io ho fatto un po' di AutoCAD, ma mi ricordo che era delirante negli anni 90. Adesso non so com'è cambiato questo. Sì, adesso cambiano ogni tanto qualcosine. Sempre quell'AutoCAD. Alla fine, sì. Siamo sempre lì. Sì, sì, sì. Comunque. E invece adesso a cosa stai lavorando? E poi diciamo altre due domande curiose. Ok, no, adesso sto facendo due uffici, più o meno di 250 metri quadrati, per due aziende. Sono V-mercate, nord-est di Milano, insomma. E sono le aziende che fanno web design, più o meno. È interessante anche quella... Com'è stato il passaggio a livello professionale da lavorare per, diciamo, studi e poi passare a freelance? Perché tu adesso sei un freelance, no? No, adesso sono un libro professionista. Libro professionista. Adesso faccio freelance anche per alcuni studi, eccetera. Adesso mi di meno perché ovviamente ho i miei lavori, eccetera. Diciamo che quando ero nello studio Sozzas, ovviamente dopo un po' di anni fai esperienze con le persone, eccetera, ovviamente tu ti arricchisci. E quindi quando cominci ad avere magari dei lavori che sono abbastanza importanti e ti permettono di poi essere magari autonomo per un anno, più o meno. Certo. Non aveva mai capitato così. Allora puoi dire, vabbè, comincio a fare il salto, no? Perché, vabbè, nel senso da noi è stato anche facile, nel senso che Ettore aveva già una certa età. Quindi... Dici tu. Dici, vabbè, se non prendo questo treno che magari è questo lavoro che mi permette un anno di staccare, magari non passa più o perdo tempo, insomma. E lo studio comunque, vista la sua personalità, lui non aveva neanche intenzione che continuasse lo studio. Adesso finirà con me. Cioè suo papà, si chiamava anche lui Ettore Sozzas, e faceva anche lui l'architetto. Lui ha fatto proprio l'architettura. E tipo il piano in a casa, a Torino, cose così. Quindi lui ha cominciato a lavorare con suo papà, non aveva figli, aveva forse una nipote, ma non era neanche interessato a continuare. Diciamo che non ha mai fatto in modo che gli associati dello studio andassero tanto d'accordo. A lui piaceva mettere un po' di zizzaia. I grandi fanno questo. Sì, sì, tipo un dividito che ti impera. Funziona sempre. Esatto. E infatti, tipo i primi associati, Aldo Cibic, Matteo Tunna, che sono architetti famosi anche a Milano, eccetera, sono pian piano usciti dallo studio quando sono sentiti più forti. Certo. Però appunto gli ultimi che erano rimasti, quando lui è mancato, lo studio è rimasto aperto giusto perché c'erano ancora le royalties, eccetera, per i pezzi. Ah, giusto. E quindi è rimasto aperto per quello, però poi non ha più prodotto perché comunque gli associati sono pian piano andati per l'allostrada. E niente, quindi appunto facendo così invece, appunto, finché ero nel studio, per esempio, ho fatto dei primi lavori da solo, però stando nello studio perché erano tipo, non so, un negozio in galleria di Vittorio Emanuele davanti a Rizzoli. E quindi mi consentiva, lo studio era in via Brera, quindi vicinissimo. Quindi ho pausa pranzo, uscivo dallo studio cinque minuti, dieci minuti, andavo a vedere il cantiere e poi tornavo. Quindi quello potevo fare. Però appunto quando poi c'è stato il momento di invece fare questa casa studio dentistico, quello era un impegno, mi avrebbe veramente portato via un anno di tempo. Quindi ho detto, vabbè, a questo punto qua faccio questa cosa qui, questo passo. E se l'ho fatto bene anche perché loro comunque mi hanno permesso di continuare a seguire i lavori che stavo completando. E quindi lavorando come freelance ho potuto organizzarmi e seguire anche il mio cantiere. E dopodiché man mano mi hanno chiesto altre cose, sempre portando come freelance. Quindi in questo caso qui se riesci a gestirti bene si può fare. Poi dopo ovviamente se aumentano i tuoi lavori ovviamente qualcosa devi lasciare. Certo. Ma secondo te, no, perché io parlo piuttosto dell'ambito mio, web agency, io non ho mai lavorato in agenzia perché sono uno che non sopporta più di tanto lavorare troppo. Però ho notato che comunque la tendenza è che lo studio, l'agenzia, a meno che abbiano clienti giganteschi o che abbiano un nome appunto, hanno un senso. Però mi sembra una cosa che ormai un po' sta quasi morendo. Sì, diciamo che... E non si può chiedere se questo è un bene o un male anche per la creazione poi di... La cultura del design. Il mio parere, soprattutto per noi giovani architetti, il fatto di lavorare da soli, visto anche la situazione economica, è anche più semplice, nel senso che hai meno spese, sei più flessibile, esatto. Cioè se ti capita di fare lavori che hai bisogno di più persone, hai sempre un altro o due o tre amici che sono più architetti, anche quelli che lavorano da soli, con cui magari hai già lavorato in passato, eccetera, e crei una certa specie di network, no? Sì, tutto più liquido. Esatto, in questo caso sì. Cioè adesso per farti un esempio, tra una settimana ho un incontro con una persona con cui avevo già lavorato in passato, e è un cliente russo che vorrebbe fare delle ville. E ha tre ville che teoricamente dovrebbe fare. Adesso ci dovremo incontrare e vedere un attimino come riuscirci, eccetera. E sono tre ville di pezzature importanti. La prima è da 800 metri quadrati, e uno potrebbe dire vabbè 800 metri quadrati, anche da solo la posso fare. Poi ce n'è un'altra da 1500 e una da 2005. Cioè non sono più ville, sono proprio palazzi. In quel caso lì ovviamente se sono tutte e tre da fare contemporaneamente, o comunque anche soltanto quella da 2500 metri quadrati, non riesci proprio a controllare completamente tutto, soprattutto se poi il cliente ha delle tempistiche molto brevi. diciamo, se non so, tra tre anni, due anni, ok. Quindi in quel caso lì sicuramente contetterei qualche altro architetto, un amico mio, con cui poter lavorare insieme. Però diciamo che è più snella come cosa, nel senso che quando ti capita un lavoro grosso, contatti le persone con cui collabori. Certo. Per ognuno non hai costi di gestione enormi. E' quello soprattutto la cosa che ti fa pensare, insomma. Perché a volte il passo che devi fare è accetto un lavoro grande, mi allargo con lo studio, però dopo hai spese enormi da affrontare. E il problema forse dello studio è la situazione economica più che altro. E' quella, sì. Soprattutto quella, sì. Perché nonostante appunto ci sia stato l'Expo a Milano, ci sono stati veramente grandi sviluppi. Cioè è stato quasi che quando c'è stato l'Expo, molte zone di Milano, tipo le Varesine, che era la zona dove c'è Corso Como, adesso non so se sei in... Sì, non so, è rinomato per certe cose. Esatto. Erano progetti congelati da molto tempo e sono proprio sbloccati tutti. Solo che poi il problema è stato che, per esempio, hanno aperto i concorsi internazionali, e quindi sono intervenuti magari i corsi studi, che in Italia invece non ci sono a parte del suo piano. Certo. E quindi magari tanti architetti che tendenzialmente potrebbero magari apportare delle cose che non ce la fanno. Un altro esempio è stato un po' di anni fa, la zona della Bicocca, tra Sesto, San Giovanni e Milano. Lì c'è stato un progetto grandissimo. Vittorio Gregotti ha fatto il master plan e poi ha costruito gli edifici, ma praticamente ha fatto tutto lui, perché lo studio era molto grande, effettivamente. Però in quel caso lì sarebbe magari stato più intelligente, forse, magari fare il master plan, scegliersi due o tre edifici, da seguire lui col suo studio, ma lasciare poi gli altri edifici da altri architetti. Perché alla fine, non so come fa Calatrava per esempio, crei un edificio che diventa poi attrazione per i turisti, anche gente interessata. In quel caso lì magari uno potrebbe andare, però dopo che hai visto uno, due, tre edifici di Gregotti, non stai a girare, basta. Invece avere quella zona lì che deve essere sviluppata e tanti architetti che fanno diverse cose diventa magari anche più stimolante per chi visita, vedere le varie architetture, i vari stili, insomma così. Ultima domanda. Sì. Secondo te qual è il paese che sta creando ora veramente il design in generale, o comunque che sta guidando il mondo? Ma allora, nei paesi europei ce ne sono ancora. Diciamo che noi siamo, come Italia, siamo ancora sempre in buona posizione. Diciamo che più le aziende che i designer italiani, perché ovviamente il mercato si è allargato, ci sono tantissimi designer, non so, scandini, v-belgi, ci sono francesi, ci sono tantissimi veramente, che ancora si propongono anche loro, a loro volta, alle aziende italiane. Ci sono mercati grandissimi, cioè tipo la Cina, eccetera, che ovviamente stesso stanno cominciando a capire. Perché prima magari copiavano, eccetera, adesso cominciano ad avere il know-how, c'è magari gli italiani, o comunque designer stranieri che vanno lì a lavorare. E avendo grande mercato, che grande potenzialità come spesso, gli investimenti potrebbero essere il futuro. Però insomma, se hai detto dell'India, se hai detto del Brasile, della Cina, insomma, però dopo non è una regola fissa. No, infatti questi BRICS sono finiti un po' male. Esatto. Turchia, malissimo. Esatto. Brasile, tragedia ora in particolare, Sud America. Sì, sì, sì. Quindi dipende un po', ma non è una regola certa, se no saremo a posto, invece non è così. Diciamo che ce la possiamo ancora cavare. Ce la caviamo, sì. Diciamo che da italiani, vedo anche quando siamo all'estero, a lavorare, anche con i professionisti, tipo Fregnami, eccetera. c'è sempre qualcosa che un po' ci marciamo sopra, nel senso che quando sei italiano all'estero, ho un 20% in più di considerazione sul fatto di design, moda, eccetera, ce l'hai, perché è proprio questa cosa, il design, la moda, l'architettura, il suo rinascimento, c'è tutta questa cosa storica che ti porta come background, e poi la capacità, secondo me, di risolvere le cose al momento, cioè hai un imprevisto, qualsiasi cosa, ti giri, c'è il falegname e ti dice, no, si potrebbe fare così, ma proviamo. Invece all'estero c'è un falegname e ti direbbe, no, è fatto così, il disegno è così, non si può fare. Quindi questa cosa è vera? Sì, è verissimo. Quando tu lavoravi all'estero, questa cosa si ripeteva spesso? Sì, sì, sì. Cioè che tu eri quello che alla fine, tu come gli altri italiani, magari che lavorano contenti, lavorano fuori dal cilindro. poi soprattutto quando sei in cantiere, perché cioè in cantiere ovviamente non capita mai le cose esattamente che tu prevedi, certo. Magari se hai una ristrutturazione e demolisci un muro, trovi una cosa che non ti aspettavi e devi risolvere al momento, magari c'è il cliente, e allora ti dici fuori questa cosa, potremmo fare così, e ovviamente questo rimane un po' folgorato, perché magari uno straniero sarebbe lì e dice, no, aspetta, faccio la foto, ci penso un attimo, non mi fai un po' più, questa arte di arrangiarsi che secondo me nel nostro DNA funziona tante volte. Come ti possiamo trovare in rete per chiudere? Cioè hai un riferimento? Sì, c'è un mio sito, www.marcopolloniarchitetto.blogspot.com Comunque Marco Polloni salto fuori. Allora andiamo a cercare lì. Va bene. Ti cerchiamo lì. Grazie mille. Grazie a te. E' bello parlare con te, quindi parlerei altre 12 ore, ma la chiudiamo perché devi continuare a fare il workshop. Esatto, se no poi mi reclamano di là. Se no poi ci uccidono. Va bene. Grazie ancora. Grazie a voi. Ciao. Un attimo, chiudiamo.